È un momento di pura concentrazione sul presente, è la classica being in the zone, quindi non credo, non c'è spazio, almeno io l'ho vissuta così, non c'è spazio né per le emotività né per pensare cosa successe prima, cosa successe dopo, cioè io ero veramente concentrata, ma proprio qual è il prossimo gesto che faccio, qual è il prossimo, perché lì è abbastanza tricky la passeggiata spaziale che ho fatto perché è russa, non americana. Perché gli americani comunque hanno un cavo di sicurezza per cui tu esci, lo attacchi, meno male c'è questo cavo d'acciaio che ti riporta quasi all'Anchor Point. Mentre i russi non hanno questa cosa, loro fanno una sorta di sistema stile via ferrata per chi magari ha fatto le vie ferrate, quindi c'hai due cavi di sicurezza con due moschettoni che sono attaccati a te e tu li attacchi tutti e due, poi quando però ti devi spostare lungo la stazione spaziale ne sposti uno. Mentre ti ha agganciato l'altro. Sposti l'altro.